La pandemia ha sconvolto gli equilibri anche nel settore turistico, ora si punta sempre più all'eccellenza e sia il Lido che Pellestrina pensano di poter dire loro, ovviamente anche con il traino del richiamo a livello mondiale che offre Venezia, così nell'ambito delle celebrazioni per i 1600 anni della città. Noi proponiamo e presentiamo il Lido e Pellestrina proprio con l'obiettivo di rilanciarlo turisticamente e riportarlo agli antichi fastidi. C'è stata un'ottima risposta da parte degli operatori perché ovviamente non è che avessimo invitato molti, abbiamo fatto una certa selezione, abbiamo invitato più di 30 operatori turistici. L'organizzazione di questo evento ha premiato un lavoro corale. Municipalità del Lido e Pellestrina, Comune di Venezia, Grande Albergo, Ausone e Ungaria, la Società Vera, Braccio Operativo del Comune e il Consorzio Venezia e il suo Lido. La consigliera della Municipalità Antonietta Busetto, delegata dell'esecutivo al turismo, per mesi ha seguito passo dopo passo questo percorso e dice La volontà di portare questi operatori, assolutamente tutti in cami specialist, quindi specializzati sulle destinazioni, visto che il momento turistico dopo il seguito della pandemia ha un po' coinvolto tutti gli equilibri, si punta all'incambio d'eccellenza d'Italia e noi qui a Lido e a Pellestrina possiamo dire assolutamente la nostra.